Chi siete e cosa fate? Allora, Generazioni Fa è una cooperativa che si occupa di minori e di anziani. Siamo come i giochi in scatola 099. Ci occupiamo nello specifico per questo progetto di ragazzi che fanno parte di tutta quell'area che è tutta la minori. Quindi ci occupiamo di progetti di rieducazione, risocializzazione e reinserimento di ogni tipo. Cosa proponete ai ragazzi di BGPU? Allora, Crew Up è un'attività estiva che facciamo dal 2 luglio al 3 agosto qui al Polaresco. Tutti i pomeriggi, dalle 2 alle 6, dal lunedì al venerdì. I ragazzi che partecipano, che vanno dai 11 ai 18 anni più o meno, possono partecipare a un sacco di laboratori tra cui il laboratorio di breakdance, di parkour, di rap, di beatbox, ma anche di calcio, di basket e di basket freestyle, di slackline eccetera. Un ragazzo che avesse voglia di fare l'esperienza di volontariato con BGPU da noi avrebbe la possibilità di accompagnare questi ragazzi e di supportarci in tutte queste attività. Perché un ragazzo dovrebbe scegliere di venire da voi? Perché è matto? No, scherzo. Credo che fare un'esperienza da noi possa essere molto interessante perché un ragazzo intanto può partecipare a delle attività che sono molto divertenti ma poi puoi entrare in contatto con dei ragazzi un po' particolari, che hanno delle storie un po' complesse ma che possono dare tanto. Grazie a tutti.